Allora siamo qua perché insomma quello che sta succedendo in campania è evidente sotto gli occhi di tutti tutti avete letto tutte le cose che si dicono su questo su questo strano personaggio non lo chiamiamo personaggetto perché non gli vogliamo fare il verso che vincenzo e luca che come sapete imperversa in regione campania salerno da oramai tantissimi anni questo è il prodotto di quello che ha fatto di questi più di vent'anni di governo a salerno nel quale ha prodotto sostanzialmente la devastazione culturale di una città e adesso lo sta riproponendo in regione questo sistema di potere tutto ha centrato su di sé e sulle persone tra cui anche masturzi di cui avete letto che fa parte del suo gruppo di potere questa è la storia di vincenzo e luca la storia di salerno l'aver creato un sistema in cui l'uomo solo al comando è veramente l'uomo solo al comando genza luca rappresenta il fallimento di quella famosa stagione dei sindaci che iniziava nel 93 quando si pensava che fare un sindaco che avesse pieni poteri potesse sbloccare la democrazia e questo è il prodotto di quella stagione dei sindaci abbiamo prodotto dei mostri del luca il più grande di questi mostri e allora questo mostro adesso ce lo avevamo in regione dove con quel sistema di potere lui pensa di poter gestire le cose quello che è successo l'elezione lo sapete tutti ci ricordiamo quando era viceministro e faceva anche il sindaco cosa che non poteva fare ma non si schiodava dalla poltrona quindi questa è la situazione ed è una situazione drammatica penso che come salernitano è assolutamente triste essere qua e a sentire ancora e a leggere ancora tutte queste cose adesso passo la parola a valeria noi siamo qui per valeria ciarambino capogruppo del movimento 5 stelle in regione campania candidata alla presidenza della regione campania durante le ultime elezioni regionali sì noi siamo qui per tenere alta l'attenzione su questo tema perché il tentativo che ritroviamo è quello di lasciar passare tempo perché tutto si spenga quest'attendismo che noi consideriamo colpevole ed omertoso in regione campania noi abbiamo fatto un gesto forte abbiamo chiesto le dimissioni di vincenzo de luca chiedendo che credendo appunto che si tratti di un atto dovuto perché questa che questa vicenda di cui appunto si parla tanto in questi giorni non è l'ennesima indagine medaglia sul petto di un presidente plurindagato e condannato in primo grado è una vicenda ben diversa che in qualche modo riguarda il provvedimento giudiziario che oggi consente a de luca di continuare a stare seduto su quella poltrona questo getta delle ombre gravissime sulla sua permanenza al vertice della regione campania e su tutti i provvedimenti che questa legislatura può produrre e può emettere sulle stesse nomine che dipendono da questo presidente di regione per questa ragione appunto noi ne abbiamo chiesto le dimissioni facendo appello alla sua dignità istituzionale quindi al rispetto per l'istituzione che in questo momento rappresenta ma siccome così come diceva pure Andrea Cioffi questo personaggio ha dimostrato di tenere più alla poltrona che al rispetto per le istituzioni al punto che non si schiodava dalla doppia poltrona di sottosegretario e di sindaco fino a una sentenza che ha costretto a farlo allora abbiamo ritenuto che servisse un atto formale per appunto allontanarlo da quella poltrona abbiamo prodotto una mozione di sfiducia che ad oggi è stata firmata dai sette consiglieri del Movimento 5 Stelle ritenendo che sia completamente venuta meno ove mai ci fosse stata quel minimo di fiducia istituzionale che è un filo necessario che deve legare chi sta ai vertici istituzionali ai cittadini De Luca ha sporcato le istituzioni con una menzogna gravissima e questo è un fatto certo che è incontrovertibile lui ha utilizzato canali istituzionali quindi un comunicato stampa una nota ufficiale della giunta regionale per raccontare ai cittadini campani dal suo stesso partito alla stampa la menzogna più grave ossia che il suo capo segreteria si fosse dimesso semplicemente per un eccessivo carico di lavoro e ha continuato a sostenere la menzogna nel perfetto stile del personaggio che lui incarna fino a che non è stato clamorosamente smentito dal fatto che la notizia è uscita su tutti i giornali non contento ha fatto una conferenza stampa che era un discorso alla Nazione a rete unificate senza contraddittorio monologo dove ha continuato a raccontare la sua bugia alla quale ne ha aggiunta quella che noi riteniamo essere un'altra pezza a colori insostenibile e cioè che lui non sapesse niente voi immaginatevi una persona anzi un personaggio come De Luca che si circonda di fedelissimi ebbene il suo fedelissimo in primis viene indagato ci sono perquisizioni in Regione è implicato in un'indagine per corruzione del giudice che fa parte del collegio giudicante della sentenza sulla sospensione di De Luca secondo voi è plausibile che questo personaggio non abbia informato il suo capo? Per noi no e quantomeno c'è un dubbio troppo forte che non consente più la prosecuzione serena di questa legislatura abbiamo presentato questa mozione di sfiducia per poterla portare in Consiglio occorrono le firme di un quinto dei componenti del Consiglio regionale noi siamo in sette e ne bastano altre quattro quindi il nostro appello è stato ed è a trovare altre quattro persone che abbiano veramente a cuore la legalità e la trasparenza in Regione Campania che vogliano liberare la Regione Campania da questo oltraggio perpetuo che si chiama Vincenzo De Luca e che siano disposti a firmare le nostre dimissioni ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna notizia se non una vaga nota stampa di Forza Italia che si diceva forse disponibili a valutare e che poi in queste ore pare sia stata smentita dalla dichiarazione di essere garantisti da parte di Forza Italia a me risulta che la giustizia italiana, che la legge italiana sia garantista non credo che debba esserlo la politica noi dobbiamo assumerci una responsabilità politica nei riguardi dei cittadini oltre a questo noi abbiamo chiesto l'indizione di un Consiglio regionale monotematico perché l'atteggiamento di questa persona che oggi è al Governo della Regione Campania è un atteggiamento da monarca assoluto lui è alla misura di tutte le cose e non deve rendere conto a nessuno quindi noi abbiamo detto che siccome siamo ancora in una democrazia e le istituzioni non sono sciolte le une dalle altre né sono sciolte dal controllo dei cittadini abbiamo chiesto che lui dovesse venire urgentemente a riferire in Consiglio regionale e che nel frattempo venisse sospeso ogni provvedimento del Consiglio vi spiego perché perché siccome oggi ve lo racconto in campagna l'indizione dei consigli regionali l'ordine del giorno dei consigli regionali e anche l'esito dei provvedimenti che verranno votati vengono annunciati prima ancora che lo sappano i consiglieri regionali dal Presidente della Giunta sempre nel famoso discorso alla Nazione a reti unificate ebbene tra questi provvedimenti che lui ha detto verrà trattato nel prossimo Consiglio c'è la legge sul riordino del servizio idrico che è esattamente un disegno di legge della Giunta quindi non un provvedimento che nasce da una genesi legislativa consigliare e nonostante i suoi proclami di campagna elettorale dove si diceva farore dell'acqua pubblica questo disegno di legge è la riproduzione fedele di quello della Giunta Caldoro che i comitati di cittadini e il Movimento 5 Stelle erano riusciti a scongiurare adesso ce lo ritroviamo ebbene ci ritroveremmo a votare e probabilmente ad approvare se la maggioranza lo consentirà un disegno di legge che consegna la gestione dell'acqua in campagna alle lobby che accentra i poteri nelle mani di pochi spossessandolo dalla partecipazione e dai comuni con queste ombre così gravi che ci sono sulla nostra regione quindi per noi non si può certamente andare avanti in questo modo ci vuole un atto di responsabilità politica e noi chiediamo a tutti di assumerselo grazie e di nuovo buongiorno a tutti ciò che sconcerta in questi giorni in queste ore è senza dubbio il silenzio di Renzi il grande twittatore non parla più ha perso la facoltà di twittare il presidente del consiglio è segretario del partito democratico da dicembre del 2013 e il partito democratico è devastato da indagini è devastato da condanne è devastato da richieste di rinvio a giudizio il PD a tutti gli effetti è un tappo un blocco allo sviluppo sociale culturale economico del paese lo abbiamo visto a Roma lo vediamo in Campania se il partito democratico facesse come il movimento 5 stelle e quindi all'interno delle tre regole di buonsenso che ci siamo dati tra cui quella di non candidare di non candidare persone con la fedina penale sporca col casellario giudiziario non in tonso e De Luca ricordiamolo quando era arrivata in regione Campania aveva una condanna e dà una condanna in primo grado per abuso di ufficio allora risolvi i tuoi problemi giudiziari e poi potrai candidarti in qualsiasi lista e oggi non ci saremo ritrovati ritrovati con questi problemi non solo in Campania ma in gran parte del paese e allora chiedo un atto di responsabilità ma lo chiedo in modo vano perché so che questo Partito Democratico un atto di responsabilità non lo farà mai cosa ci vuole inserire due parole nel proprio codice etico una frase per cui non candidare più condannati cosa ci vuole niente non c'è la volontà perché si ha un'altra idea di Stato uno Stato che diventa sistema di potere per mettere i propri uomini ai posti chiave e gestire il Paese non è uno Stato comunità è uno Stato padrone riferito ai partiti politici l'abbiamo visto in tutte le nomine che stanno facendo in tutte le nomine non è un caso che il Partito Democratico e il Consiglio di Amministrazione della RAI abbia nominato l'assistente del Presidente della Commissione Istruzione del Senato è un modo di operare e questo modo di operare porta nel pantano il Paese da ogni punto di vista e quindi mi sembra assurdo che oggi un Presidente del Consiglio possa essere allo stesso tempo segretario del Partito Democratico è un'anomalia è un qualcosa che non va fatto in nessun modo noi chiediamo di scindere questa tipologia di ruolo come segretario devi prenderti le tue responsabilità e questo Partito Democratico è devastato ed è devastato dal 2013 il rinnovamento è peggio di quello che c'era prima è peggio di quello che c'era prima e allora Renzi deve parlare deve prendere responsabilità e chiediamo di far dimettere la sua maggioranza in Consiglio regionale se vuole lo dico senza troppa eronia possiamo preparare il notaio così come hanno fatto a Roma saremo noi a fornirlo il notaio tutto a spese del Movimento 5 Stelle e io credo che dovranno valutare anche il commissariamento del Partito Democratico in Campania e un grande commissario potrebbe essere Beppe Grillo vi consiglio di usare la metodologia del Movimento 5 Stelle perché non c'è un'azione del Partito Democratico che non abbia un ritorno poi giudiziario una clientela una nomina senza competenze senza nessuna garanzia per i cittadini qui come dico sempre ci sono due modi di intendere lo Stato e due modi di intendere il mondo quello del Partito Democratico che candida tranquillamente condannati in primo grado condannati in tutte le istituzioni che quando che quando vengono indagate le persone all'interno anche del governo per farle dimettere ci vuole una fatica enorme in qualsiasi altro paese se succedessero le cose che succedono qui il giorno dopo cadrebbero governi giunte regionali e giunte comunali questo il Partito Democratico non lo fa e ripeto e chiudo chiedendo a Renzi di parlare di prendere le proprie responsabilità come segretario del Partito Democratico visto che ha fatto la campagna elettorale con Vincenzo De Luca e adesso lasciano questa regione non nella soluzione dei problemi ma in un vuoto con persone sotto indagine questo è quello che ha creato Renzi nella regione campagna una regione che ha una disoccupazione giovanile tra le più alte di Europa una regione dove ci sta la più grande e alta povertà dei bambini la regione numero uno il rapporto di Save the Children dice questo e noi dobbiamo pensare ai guai giudiziari di De Luca che era evitabilissimo perché bastava non candidare chi era condannato in primo grado e allora per queste persone veramente non c'è più il tempo è un questo Partito Democratico con questa modalità è proprio il tappo che blocca lo sviluppo sociale culturale ed economico del paese e allora è per questo che noi combattiamo giorno per giorno cercando di essere noi stessi esempio sempre di quello che diciamo ed è finito il tempo della politica di dire una cosa e farne un'altra si dice una cosa e si fa esattamente quella se no a casa e noi siamo pronti in regione così come a Roma e in tutta Italia a continuare questo cambiamento culturale e questo processo anche avanzato legislativo di partecipazione con i cittadini che sta avendo successo è un miracolo quello che sta avvenendo in Italia e più noi andiamo avanti essendo esempi di quello che diciamo e di quello che facciamo più il Partito Democratico è in difficoltà perché schiavo delle proprie logiche e della propria cultura dei propri apparati e dei propri uomini quindi vi ringrazio per Radio Radicale allora il caso De Luca ha sollevato una questione morale importantissima volevo sapere se secondo voi ci sono altrettante valutazioni da fare sul ruolo della magistratura dopo il caso Saguto c'è anche un altro caso relativo a un altro magistrato in Campania che tipo di valutazione avete fatto su questo? La valutazione è che io spero profondamente che anche la magistratura che è indipendente abbia gli anticorpi al suo interno per combattersi e in questo momento per combattere ciò che nella magistratura non va in questo momento vedo che Pignatone comunque nelle indagini ha coinvolto anche un magistrato un giudice e questo giudice è stato sospeso Sì per l'Agenzia Anza se non si arriva al numero di firme chiaramente non sarà procedibile cioè non sarà inseribile all'ordine del giorno questa mozione di sfiducia e ahia ecco cosa vi aspettate cioè al di là di queste del quadro che Lecce ha fatto prima cioè l'apertura di principi avanzata però poi smentita formalmente col garantismo in realtà alla fine secondo lei a queste firme ci arrivate o no? La mia speranza è che ci arriviamo diciamo il realismo anche di queste ore mi porta a dire che probabilmente nessuno sosterrà la nostra mozione e a questo punto io mi chiedo perché se perché queste persone sono attaccate alla loro poltrona noi facendo questa battaglia stiamo mettendo in discussione la nostra stessa permanenza all'interno del Consiglio regionale questo vuol dire libertà questo vuol dire libertà vuol dire mettere innanzi a tutto la legalità e la trasparenza il rispetto delle istituzioni noi lo possiamo fare gli altri evidentemente non hanno questa libertà forse perché 9.000 euro al mese fanno comodo a tutti noi ci tagliamo anche gli stipendi rinunciamo a ogni indennità ulteriore rendicontiamo le spese di esercizio e il mandato siamo liberi perché dopo due mandati ce ne torniamo a casa per gli altri questo può essere l'inizio la persecuzione di una carriera ventennale trentennale dove appunto si sta lì dentro sulla pelle dei cittadini e probabilmente non si lavora neanche nell'interesse dei cittadini un'altra risposta può essere che probabilmente anche loro hanno degli scheritri nell'armadio io vi ricordo che la nostra commissione Anticamorra nella regione Campania con la recrudescenza del fenomeno criminale per le strade dove oggi ci sono ragazzini che ammazzano da oltre un mese e mezzo è senza un presidente per una ragione semplice perché con l'omertà del PD è stato eletto un presidente di Forza Italia che oggi è indagato per voto di scambio politico mafioso di cui abbiamo chiesto le dimissioni e che si è dimesso però il PD che ha il presidente del Consiglio non convoca una nuova commissione Anticamorra per nominare il presidente quindi se Forza Italia ha questi scheletri nell'armadio e tutta l'altra opposizione tra virgolette ha questi scheletri nell'armadio ci credo che sono garantisti grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti